Nel collegio plurinominale di Salerno si contraddistingue il giovane Antonio Santoro, candidato alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni del 4 marzo. Antonio, cilentano di origini, ha 31 anni, è un project manager e dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno. Scende in campo con la lista più Europa con Emma Bonino. Noi vogliamo riportare al centro dell'agenda politica del nostro paese una visione chiara e seria dell'Europa. L'Europa è un'opportunità per tutti noi, l'Europa e i fondi della comunità europea sono fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori ed è stata una nostra responsabilità non essere riusciti a sfruttare queste grandissime opportunità che si sono presentate nella nostra recente storia politica amministrativa. Se dovessi essere eletto, quindi diventare deputato, quali saranno le tue priorità? Innanzitutto dobbiamo riportare al centro dell'agenda politica del paese ai giovani, alle donne e alle aree interne. Le aree interne purtroppo rischiano lo spopolamento continuo e una lenta agonia e in questo senso c'è stata poca attenzione da parte dello Stato e noi dobbiamo assolutamente riportare al centro dell'agenda politica questo tema. Come? Con trasporti, investendo seriamente nel turismo, nell'innovazione nel settore agroalimentare, nel cercare di accompagnare i giovani nell'apertura di imprese che possono essere una forte opportunità di lavoro e cercare di riportare anche un concetto importante rispettivamente per esempio alle donne che molto spesso nel sud Italia vengono ancora considerate semplicemente come delle persone che devono occuparsi della famiglia. Noi vogliamo mettere al centro del nostro programma giovani, aree interne e welfare per delle politiche serie che possano permettere a tutti, alle fasce anche quelle più deboli che spesso sono rimaste ai margini della vita del nostro paese di entrare nel mondo del lavoro e dare un loro contributo per lo sviluppo di questo territorio. Antonio, sabato 24 febbraio una tua presentazione ufficiale agli elettori, ai cittadini a Sessa Cilento. Io invito tutti i cittadini del Cilento, chi si trova in zona, anche diciamo può sfruttare il sabato pomeriggio per fare due passi e raggiungere Sessa Cilento per questo incontro che noi terremo sabato alle 18 presso la sala consigliare, in cui parleremo di tante cose che riguardano il nostro territorio. Parleremo delle proposte, del programma di Pia Europa e parleremo anche di alcuni casi particolari che riguardano il Cilento da vicino. Uno fra tutti, la vicenda per esempio Flixbus, che non tutti sanno, che è una di quelle vicende che ci tocca molto da vicino ed è uno di quegli esempi come l'Europa favorisce lo sviluppo delle aree interne e non lo penalizza. Poi faremo anche negli altri incontri, sempre nell'area cilentana, la prossima settimana per esempio a Vallo della Lucania. Io invito tutti a seguire il mio profilo Facebook, da cui daremo tutte le informazioni relative ai prossimi appuntamenti di campagna elettorale per scoprire tutto ciò che noi intendiamo realizzare e portare avanti in questo territorio, che è un territorio che ha delle grandissime ricchezze, delle grandissime opportunità e su cui noi tutti insieme, soprattutto la coalizione di centro-sinistra, vuole portare una fortissima attenzione e un grandissimo contributo.